Liu Xiaobo è stato un intellettuale, critico letterario, scrittore e attivista per i diritti umani cinese. Nato il 28 dicembre 1955 a Changchun, nella provincia di Jilin, è noto soprattutto per il suo ruolo nella promozione della democrazia in Cina e per essere stato il primo cittadino cinese a ricevere il premio Nobel per la pace mentre era detenuto. La sua vita è stata segnata dalla lotta per i diritti civili e dalla repressione da parte del governo cinese. Liu crebbe durante la rivoluzione culturale, avvenuta tra il 1966 e il 1976, un periodo di grandi cambiamenti in Cina. Frequentò l'università, laureandosi in letteratura cinese all'Università di Jilin. Successivamente, conseguì un dottorato in letteratura all'Università di Pechino, dove poi insegnò. Negli anni Ottanta, Liu iniziò a farsi apprezzare come intellettuale e critico letterario. Pubblicò numerosi saggi e articoli, criticando sia la letteratura cinese contemporanea che il sistema politico del suo paese. Durante questo periodo, trascorse del tempo per studio in diversi paesi, tra cui Norvegia e Stati Uniti. Liu diventò noto a livello internazionale per il suo coinvolgimento nelle proteste di Piazza Tiananmen del 1989. Tornato in Cina dagli Stati Uniti per unirsi ai manifestanti nella loro richiesta di democrazia e di libertà di espressione, Liu svolse un ruolo chiave nella promozione del dialogo non violento tra studenti e autorità. Ma dopo il brutale intervento militare, con l'uccisione di un numero imprecisato di studenti, che pose fine alle proteste, Liu è stato arrestato e imprigionato per propaganda contro-rivoluzionaria, per 21 mesi. Nel 2008, Liu corredasse e firmò la Carta 08, un manifesto che chiedeva riforme politiche, diritti umani e democratizzazione in Cina. Questo documento, ispirato alla Carta 77, stilata dai dissidenti cecoslovacchi negli anni 70, attirò l'attenzione internazionale e portò all'arresto di Liu nel dicembre 2008. Nel 2009, fu condannato a 11 anni di carcere per incitamento alla sovversione del potere statale. Nel 2010, mentre era ancora in prigione, Liu Xiaobo fu insignito del Premio Nobel per la Pace, per il suo impegno non violento nella lotta per i diritti umani in Cina. La sua sedia vuota alla cerimonia di premiazione a Oslo diventò un potente segno dell'oppressione delle autorità cinesi. La sua premiazione suscitò una dura reazione da parte del governo, che censurò le notizie riguardanti il premio e intensificò la repressione contro altri dissidenti. Durante la detenzione, la salute di Liu peggiorò notevolmente. Nel 2017, gli fu diagnosticato un cancro al fegato in fase terminale. Nonostante le richieste internazionali per il suo rilascio, affinché potesse ricevere cure mediche all'estero, Liu rimase in Cina sotto stretta sorveglianza. Morì il 13 luglio 2017. Liu Xiaobo è ricordato come un simbolo della resistenza pacifica contro l'oppressione. La sua vita e il suo lavoro continuano a ispirare attivisti per i diritti umani in tutto il mondo. Nonostante i tentativi del governo cinese di cancellarne la memoria, il suo contributo alla lotta per la democrazia e i diritti umani in Cina rimane indelebile. L'uomo non è solo un essere materiale, ma ha anche una spiritualità dotata di senso morale, al cui centro è posta la sua dignità, e il senso di giustizia origina naturalmente dal valore attribuito alla dignità umana. Quando un sistema politico o uno Stato permette a ogni uomo di vivere con dignità, ne ottiene l'appoggio spontaneo, proprio come illustra il concetto di virtù politica di Tommaso d'Aquino. Il governo virtuoso non si basa sul mantenimento dell'ordine, ma trova il suo fondamento nella dignità umana.